Essendo al di là del fenomeno della rappresentazione del cosiddetto velo di maya, la volontà di vivere o voluntas, presenta per Schopenhauer delle caratteristiche, dei caratteri, dei attributi, delle proprietà che non sono in alcun modo riconducibili alla rappresentazione in quanto tale, che sono cioè antitetici ai caratteri, agli attributi, alle proprietà del mondo della rappresentazione. E allora vediamo quali sono i caratteri della volontà di vivere in Schopenhauer. Innanzitutto la volontà primordiale è inconscia, dal momento che la consapevolezza, l'intelletto, ne costituiscono solamente delle manifestazioni, per così dire, secondarie, di secondaria importanza. La volontà di vivere al contrario è assimilabile ad un impulso cieco, ad una energia in qualche modo che permea tutta l'intera realtà, che è la sostanza unica e vera dell'universo. Inoltre la volontà di vivere è unica dal momento che, esistendo al di fuori dello spazio, al di fuori del tempo, si sottrae al cosiddetto principio di individuazione, cioè a dire la volontà non è qui più di quanto non sia là, la volontà non è oggi più di quanto non sia stata ieri, più di quanto non possa essere domani. Inoltre la volontà di vivere è eterna e indistruttibile, ossia è un principio senza, inizio senza, fine. Inoltre la volontà di vivere è paragonabile ad una forza libera, cieca, cioè ad una energia incausata, senza un perché e soprattutto senza uno scopo. Si è fatta volontà primordiale e non ha alcuna meta oltre se stessa. In altri termini la vita vuole la vita, la volontà desidera la volontà e qualunque motivazione o scopo cadono entro, all'interno, al di qua, dell'orizzonte, del vivere e del volere. Miliardi di esseri dunque, vegetali, animali, umani, non vivono che per vivere e continuare a vivere. Questa è, a detta di Schopenhauer, l'unica crudele verità sul mondo. Anche se, nel corso dei secoli, gli uomini hanno cercato di ingentilirla, di occultarla, di mistificarla, di masterarne la terribile evidenza, postulando l'esistenza di un Dio al quale finalizzare la loro vita, la propria vita, in cui trovare un senso, un significato, un valore per le loro azioni. Ma Dio, il Dio della tradizione storica, soprattutto della cultura occidentale, all'interno dell'universo doloroso, concepito, pensato, meditato, esclogitato da Schopenhauer, non trova posto, non può esistere. Ed anzi, l'unico assoluto presente nel desolato e doloroso universo Schopenhaueriano è la volontà stessa, è la volontà di vivere, i cui caratteri di fondo, l'essere cioè unica, eterna e incausata, sono i caratteri che generalmente i filosofi hanno sempre attribuito a Dio.